Allora, oggi parliamo del vostro argomento preferito dell'ultimo periodo che non è Windows 11, non è Intel, ma a quanto pare sono sti attrezzi qua, ovvero gli M1. Come vedete c'è un bellissimo M1, non è Max Pro eccetera eccetera, è un Air e una delle critiche più grosse che gli sono state fatte è non si può giocare con i MacBook. Ma è così? Siamo tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video, siamo qui oggi di nuovo a parlare di MacBook. Ragazzi mi raccomando non perdetevi il video che uscirà il 4 novembre, iscrivetevi al canale perché sarà un video super top, ho giusto un piccolo spoiler però vabbè, giusto piccolo, perché parleremo di argomenti molto importanti e a questo punto saranno già presentati, ci sarà infatti la recensione degli Intel 12esima generazione, recensione molto molto approfondita. Ragazzi mi raccomando se volete altri video invece sul Mac e su qualche altra cosa lasciate un bel mi piace, non mi chiedete di comprare un MacBook M1 Max perché non ho soldi, costano veramente troppo per me, rimango della mia opinione prima che inizia il video, credo ancora oggi fermamente anche alla luce dei benchmark che ho visto da testate comunque insomma di un certo calibro che l'M1 Max per il prezzo che abbia sia un ottimo prodotto. Quindi praticamente nessuno mi può dire nulla, sto dicendo che l'M1 Max per quello che deve fare è un ottimo prodotto, però una delle critiche che arriva soprattutto dagli utenti che non utilizzano magari Apple e di cui spesso parliamo anche su Instagram, quindi mi raccomando eseguitemi su Instagram, è appunto il fatto che comprare un PC dove non si può giocare. Ora, proviamo un attimo a dare una spiegazione a tutto ciò. Innanzitutto partiamo dal presupposto che ci sono due verità fondamentali. La prima, il fatto di non poter giocare esattamente come si gioca su un sistema Windows o su un sistema Linux è essenzialmente una scelta da parte di Apple, ok? È una scelta che da parte mia non condivido, che è una casa produttrice che ha tutte le potenzialità per poter fare qualcosa del genere, però se non baso sto microfono qua oggi... L'audio non lo so... Poi dite che non servono a niente... Cioè, best costo microfono ever, porca miseria. Innanzitutto è una scelta che io non condivido, non condivido la scelta di non poterti dare la possibilità di giocare con questi prodotti, ma soprattutto c'è anche un'altra grossa verità. Non è vero che non si può giocare, ci puoi giocare col MacBook. Ora, andiamo un attimo un pochettino a vedere prima la connessione che fatti. Diciamo, i sistemi Apple sono stati quasi paralleli rispetto ai sistemi Microsoft, non nel senso di potenza, non nel senso di performance, non nel senso di innovazione, per l'amore di Dio non creiamo una guerra, nel senso che da tantissimo tempo ci sono stati sistemi Apple, sistemi Windows, poi si sono introdotti anche sistemi Linux, eccetera. E tutti e tre hanno camminato più o meno sugli stessi binari, quindi nel senso anche a livello di potenza, tant'è che per esempio prima dell'Apple Silicon, Apple utilizzava appunto i processori Intel, quindi i processori che vediamo sia sul mercato Microsoft che sul mercato Linux. Ovviamente le macchine arrivando a quel punto erano veramente simili, se non praticamente identiche, a quelle di un PC. E questa cosa giustamente permetteva quindi di poter avere anche un parco software e altro molto simile tra di loro. Tant'è che infatti nel corso della storia sono usciti diversi giochi per Apple e soprattutto un po' di giochi che escono su Windows spesso hanno anche un porting su MacOS, nel senso che ci stanno anche su MacOS. Addirittura voi dovete sapere, probabilmente qualcuno non lo sa, che su MacOS ci sono addirittura gli stessi aggregatori di giochi, non so come, gli stessi store, gli stessi game store, che troviamo ad esempio su Microsoft. Steam è presente anche su MacOS. Il Riot Client, League of Legends per farvi capire, è presente anche su MacOS. Di conseguenza è possibile anche in questi casi andare a giocare con una macchina che in teoria non è stata creata per farla. Le cose sono leggermente cambiate, come qualcuno che vive forse sotto una roccia non ha potuto notare, che praticamente da quando dicevo la M1 ci sono state delle problematiche, sia a livello di software utilizzabili, non per giocare ma per fare altro, sia anche appunto a livello dei giochi, perché appunto comunque il fatto di dover andare a interpretare delle informazioni rende comunque questo accesso ai giochi per questi importati leggermente più, come posso dire, difficoltoso, anche se comunque ci sono diversi giochi che sono stati scritti letteralmente, cioè che sono stati proprio portati, interpretati completamente per Apple M1. Per esempio Shadow of the Tomb Raider è diciamo quello più famoso, quello che viene preso come benchmark, perché? Perché è uno di quei titoli AAA che nativamente viene supportato da Mac. Infatti se noi andiamo a vedere le performance che possiamo ottenere su un gioco come Shadow of the Tomb Raider, in realtà non rimaniamo neanche troppo, come posso dire, non ci rimaniamo neanche troppo male, perché? Perché sono performance che comunque effettivamente ci stanno, è un portatile fanless, quindi di conseguenza un portatile che non ha ventole, è un portatile che essenzialmente non compri per giocare, il fatto comunque di poter vedere che abbassando moltissimo i dettagli, avendo un'esperienza di gioco che sicuramente sarebbe infinitamente migliore su un'altra macchina, comunque sia, possiamo anche portarlo a dei livelli giocabili. E questa qui è soltanto la prima implementazione, diciamo, della scheda grafica M1 all'interno dei MacBook. E mentre il Mac finisce l'aggiornamento, voi sapete che avete bisogno di protezione anche se state utilizzando un dispositivo con MacOS? E infatti NordVPN, che è una Virtual Private Network, funziona non soltanto, ovviamente, su dispositivi MacOS, Windows, ma anche sull'iPhone che sta registrando il video in questo momento, il che potrebbe tornarvi molto utile. Che cos'è una VPN? Lo sapete benissimo, è un servizio che mascherando il tuo IP ti permette di avere una protezione maggiore dei tuoi dati online, ma soprattutto ti permette anche di accedere a contenuti che magari non sono disponibili nel tuo paese per un motivo o per l'altro, oppure anche riesci ad avere dei prezzi più vantaggiosi rispetto ad altre aree. Cioè nel senso che tu magari dove stai tu paghi di più, se fai vedere che stai connesso ad un'altra parte paghi di meno. Sta cosa sarà utile soprattutto quando viaggi. Ovviamente con il codice SCONTO SADDI avrete uno sconto del 73% sul piano biennale e ovviamente vige sempre la politica del soddisfatto rimborsati per 30 giorni. Quindi ragazzi mi raccomando, per tutte le altre informazioni il link è sempre in descrizione. Ci tengo subito a precisare che chi compra un MacBook per giocare è pazzo. Se volete comprare un portatile e pagarlo 1000€ e ci volete pure giocare, nel frattempo non prendete questo. Questo qui, se volete un portatile di 1000€ e ci volete anche giocare, no. Questo no, infatti adesso vedete anche i famosi loophole, insomma, le problematiche che uno può andare a incontrare con le cose del genere. Fatto 6 è comunque, quando la scheda video viene sfruttata in modo consono, possiamo vedere delle performance che sono molto simili, non so, a me mi ha ricordato molto la 1050, la GTX 1050 con la 2GB. Una delle problematiche più grosse che ho incontrato sull'M1 sicuramente è il fatto di andare a saturare la RAM, perché effettivamente il fatto di essere un SOS con questa 8GB di RAM divisa tra scheda video, sistema, processore, tutto praticamente, può andarvi a creare delle problematiche. Nonostante questo, comunque, su un gioco come Shadow of the Braider, i risultati non sono male. La problematica inizia quando andiamo un pochettino a sconfinare in altri ambiti. Per esempio, abbiamo provato CSGO. CSGO è un gioco che nativamente dovrebbe essere supportato da Steam per MacOS. Infatti, se noi andiamo su Steam per MacOS, se noi mettiamo proprio tanto i giochi per Mac, c'è sta, pom, Counter-Strike Global Offensive. E di conseguenza, uno dovrebbe dire, non dovrebbero esserci problemi nel giocare. Counter-Strike parte, ma non parte. Cosa vuol dire? Vuol dire che comunque dobbiamo andarci a mettere delle piccole righe di codice in proprietà in modo da farlo partire. Se non sbaglio, abbiamo utilizzato la riga Novid, la riga Safe e qualcos'altro, mi sembra. Il fatto è che comunque, praticamente, che succede? Non essendo un gioco che parte per M1, parte il 3 iniziale, poi si blocca, per entrare in gioco dobbiamo digitare noi Map, nel caso per esempio Map Dust 2, in modo che entra subito in partita Map. Una volta che sei entrato nella mappa e hai giocato una partita o ne esci, poi effettivamente arrivi nel menu iniziale. È un pochettino una problematica che sicuramente è dovuta più che altro al set di istruzioni ARM che alla potenza della scheda video in sé, che è la GPU, manco questa non è la scheda video, è la GPU che sta all'interno del Mac 1, perché se si riesce a giocare a Shadow of the Tomb Raider a 30 FPS, si dovrebbe giocare a CSGO a 90 FPS. Effettivamente CSGO, tirando tutto al minimo, riesce a giocarci pure a 80-90 FPS. FPS che sono abbastanza ballerini, sicuramente dovuti alla natura essenzialmente del processore. È un processore ARM, non è fatto per fare questo, il software, il sistema operativo in sé non è fatto per fare questo e quindi delle problematiche le vai ad incontrare anche da quel punto di vista. Nonostante questo, è possibile giocarci con un pochettino di attenzione. Abbiamo provato anche altri giochi. Per esempio, siccome l'M1 da parte sua ha sicuramente un comparto CPU che abbiamo visto andare molto forte, soprattutto per quanto riguarda gli ambiti dove è studiato per farlo, ho provato un gioco che è un pochettino più CPU dependent e che soprattutto, diciamo, è uno dei caposaldi, chiamiamolo così, del gaming per MacBook, tra l'altro uno strategico, è Civilization VI. Civilization VI, sicuramente molti di voi lo conoscono, è essenzialmente, diciamo, un gioco strategico che ha una storia lunghissima, a parte da tanti anni e storicamente è un titolo che per Apple è sempre andato. Abbiamo potuto notare come, anche in quel caso, il gioco gira, ci puoi giocare. Va bene, però anche lì vediamo delle performance che sono molto ballerine. Mentre in un benchmark grafico possiamo vedere come si rimane tranquillamente tra i 50 e i 55 fps, ovviamente è mai la risoluzione massima, anche se però comunque devi abbassare un pochettino i dettagli. Se invece partiamo con un benchmark di intelligenza artificiale, quindi magari qualcosa che va proprio a premere un pochettino di più sulla CPU, vediamo alla fine come i risultati non siano entusiasmanti, ma ancora una volta, vi ripeto, non è un macchinario fatto per questo, l'M1 in special modo non viene assolutamente creato per giocare. Sono sicuro che però alcuni giochi come appunto possono essere Civilization, che magari a 25 fps lo puoi anche giocare, giochi come Football Manager, giochi quindi strategici da questo punto di vista, o giochi a cui non richiedono, insomma, un numero elevato di fps, possono essere comunque giocabili. Tra l'altro Apple da poco, non da poco, da un po' credo, non lo so sinceramente da quando, comunque mette a servizio anche, mette a disposizione anche un servizio che sia arcade, con un pochettino come il Game Pass paghi 5 euro, c'è stata una serie di giochi che possono andare bene per Mac. Sinceramente non so quanto vadano bene per M1, ma credo che comunque vadano bene, perché a fine sono fatti poco per T6. Tra l'altro Apple sta investendo anche in questa cosa, perché dovrebbero esserci anche dei giochi originali e proprietari Apple, cioè nel senso che sono fatti apposta per girare sui Mac. Interessante come cosa. Ovviamente poi ho provato il classico gioco tostapane, che è League of Legends. Allora, il Riot Client è stato molto divertente, vedete che League of Legends può andarci su Mac, c'è un certo razzismo per Valorant, cioè CSGO sì, Valorant no, Valorant che penso che sia ancora più tostapane. Il League of Legends su M1 non va, ti dice Paolo, vuoi installare? Ebbene, gioca su Windows, grazie. League of Legends, risoluzione massima di questo portatile, che è 2560x1600 mi sembra, dettagli altissimi, 60fps, però League of Legends diciamo che io ho visto fare 144fps su una 9600 GT, quindi non mi stupisce più di tanto. Il fatto è che comunque pure la partita League of Legends, volendo ce la puoi fare. La problematica ovviamente è il fatto che qua c'hai tre porte Thunderbolt, quindi devi mettere l'adattatore sull'adattatore, mouse e tutto, perché se no riesci a giocare. Ovviamente anche il fatto di giocare su un monitor 14 pollici potrebbe essere una problematica. Ovviamente non sto parlando anche di tutti i vari servizi di cloud gaming, di cui parleremo molto presto, però in un modo strano, quindi rimanete sintonizzati, perché a metà del prossimo mese dovrebbero uscire sti video, che sono molto carini, sono ovviamente disponibili, incluso anche lo Steam Remote Play, infatti per esempio se volessi giocare Cyberpunk, mi basterebbe attivare lo Steam Remote Play e giocare da una delle mie macchine, una Microsoft Windows che ho in casa, con delle schede video insomma che sono adatte a fare questo compito e streamarlo. Ovviamente poi lo Steam Remote Play, il locale, varia molto a seconda della qualità della vostra connessione. Anche se poi devo dire che lo Steam Remote Play, il locale, se c'hai una linea da 1 gigabit, praticamente tutto cablato, quindi in cut 6e, riesci comunque a giocare benino, la latenza vi rimane sempre un problema, sia che sia il locale, sia che sia al di là, ma di questa roba ne parleremo oltre. In conclusione, puoi giocare con i MacBook? Sì, ci puoi giocare, però queste macchine rimane il fatto che non sono state minimamente create e ideate per questo tipo di lavoro. Non comprate un MacBook se volete giocare, se sapete che voi comprate un portatile per fare un utilizzo all'around, questo qui sicuramente non è quello che state cercando. Questo qui ha un portatile, molto, io trovo difficoltà a dare, a dare un pochettino di senso a un MacBook Air da 1000€, soprattutto perché so che mi rivolgo a un pubblico di ragazzi che hanno 20 anni, di cui probabilmente la maggior parte di loro sono interessati molto anche a giocare. Quindi comprendo che effettivamente per 1000€, magari in portatile, pure con una 30-60, sia decisamente meglio. Sono persone che sono sicuro che sono pronte a rinunciare alla batteria, allo schermo, eccetera. Essenzialmente io credo che se volete queste feature come batteria, schermo, eccetera, eccetera, e siete dei professionisti del settore, credo che l'M1 Max sia veramente un game changer. L'ho visto, devo dire che se devi fare quel tipo di lavoro lì è la miglior cosa che puoi prendere, va veramente forte. Devo dire la vera, sono veramente stupido da Apple. MacBook Air al momento è veramente un portatile, molto situazionale da andare a comprare, non lo comprerei comunque per giocare, sicuramente. Detto questo ragazzi, spero di avervi tolto anche qualche curiosità, avervi anche fatto magari scoprire il mondo dell'Apple Gaming, magari un mondo che possiamo anche andare un pochettino più ad addentrarci. mi dispiace comunque col fatto che l'M1 non supporti ancora la virtualizzazione e altre cose di poterci andare a collegare altro, per esempio anche schede video esterne, eccetera. Magari nel prossimo futuro arriveranno anche aggiornamenti da questo punto di vista e potremmo rivisitare questa cosa e tutte le cose nuove mi interessano anche questa, quindi mi piacerebbe andare a scoprire di più. Detto questo ragazzi, mi raccomando, non mancate al video del 4 novembre e quindi ci vediamo lì. Ciao!